Oggi vi mostrerò 5 casi in cui utilizzare il flash nelle vostre fotografie vi consente di ottenere dei risultati migliori. Il flash, come tutti quanti sappiamo, è uno strumento un po' ostico da utilizzare, soprattutto all'inizio, perché non riusciamo a visualizzare con i nostri occhi quello che stiamo facendo e capiamo com'è il risultato finale solamente quando guardiamo l'anteprima dopo aver scattato. Questo può portare a diversi errori, sia nell'utilizzo, sia nella scelta di quando utilizzare il flash, oppure no. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per mestiere. Ormai per me utilizzare il flash è automatico. So già quando lo devo usare prima ancora di tirare fuori il mio armamentario e so già più o meno anche come impostarlo prima ancora di appoggiare l'occhio all'oculare o di accendere il monitor, se è per quello. Nel corso del video di oggi vi racconto 5 situazioni in cui utilizzare il flash sicuramente conviene e ci permette di ottenere una fotografia migliore e spesso ci salva anche la situazione. Prima di cominciare ricordo a tutti quanti di iscriversi, soprattutto quelli che mi seguono assiduamente e non l'hanno ancora fatto. È un peccato ragazzi, magari vi perdete degli episodi cruciali. E vi ricordo anche di andare a recuperare la playlist con tutti i video che ho già pubblicato su questo stesso argomento, quindi andateveli a recuperare così non vi perdete i fondamenti di quello che è l'utilizzo del flash. Cominciamo subito con il primo caso, che è una condizione abbastanza comune perché stiamo parlando di ritratto in esterna, quindi di giorno con luce abbastanza forte. Il problema della luce forte in esterna è che può creare delle ombre altrettanto intense. A una luce molto forte corrisponde un'ombra abbastanza intensa e che va a scavare i lineamenti del nostro soggetto. Utilizzando il flash di riempimento possiamo andare a riempire queste ombre in maniera tale da ottenere dei ritratti più gradevoli e giocando con i parametri del flash e con i parametri del tempo possiamo decidere quanta luce ambiente far entrare e quanta luce del flash far entrare. In questo caso specifico, andando ad agire sui tempi, noi possiamo allungare i tempi e quindi far entrare più luce ambiente. Se invece vogliamo ridurre la luce ambiente e far entrare più flash andiamo a ridurre i tempi, quindi avremo meno tempo in cui la luce ambiente entra. Il lampo del flash invece viene registrato in un singolo istante, quindi andando a ridurre i tempi fino a un centottantesimo, un duecentesimo di secondo, taglieremo tanta luce ambiente e lasceremo entrare tanta luce flash. Ovviamente dobbiamo andare a bilanciare correttamente quest'operazione utilizzando anche ISO e diaframma, però diciamo che con i tempi riusciamo a escludere la luce ambientale e quindi entrerà più luce del nostro flash. Un'altra situazione, analoga ma diversa, può essere un ritratto al chiuso ma con una retroilluminazione prepotente. L'esempio più classico è se stiamo fotografando una persona in una stanza con una finestra dietro. Avremo una luce dietro che sarà comunque più intensa della luce che sta all'interno, perché all'interno c'è meno luce che all'esterno se siamo di giorno, e quindi di nuovo utilizzare un flash di riempimento può aiutarci ad avere l'esposizione corretta sullo sfondo e avere l'esposizione ottimale anche sul nostro soggetto. È un caso classico in cui l'utilizzo del flash ci salva la vita. Vi dirò una cosa in più, in un contesto del genere, quindi in interni, a me capita ogni tanto di utilizzare il flash in interni, sapete che è una cosa che chi mi segue lo sa, io non amo utilizzare il flash per la fotografia di interni, però in casi come questo io potrei utilizzare il flash in una stanza per illuminare la stanza in modo da fare con un singolo scatto l'esposizione della stanza e lasciare l'esposizione del cielo azzurro fuori. È una cosa che si può fare e mi fa risparmiare tempo, altrimenti dovrei fare 5-7 scatti di bracketing, invece così con uno scatto solo me la cavo. È una cosa che faccio quando sono di fretta e devo lavorare in velocità, se lavoro bene preferisco non farlo. Un altro caso in cui il flash può essere molto utile è semplicemente quando c'è troppa poca luce o quando comunque la luce non è uniforme, non è bella. In questo caso, come potete vedere, l'utilizzo del flash incorporato sulla nostra macchina darà un risultato abbastanza piattino e poco appagante. Se invece utilizziamo un flash esterno, quindi un flash a cobra, di quelli di cui ho già parlato approfonditamente sul canale, quindi andatevi a recuperare gli altri capitoli, se utilizziamo un flash di questo tipo che possiamo orientare, quindi io posso scattare dritto in faccia al mio soggetto oppure posso dire al flash di scattare su un muro o di scattare sul soffitto. Questo farà sì che il nostro muro e il nostro soffitto diventino dei diffusori e quindi sparerà una luce molto più gradevole in tutta la stanza e in particolare sul nostro soggetto. Da provare perché i risultati sono veramente molto diversi, è proprio un cambio di gioco netto per la nostra fotografia. Arriviamo al quarto motivo e parliamo sempre di situazioni in cui la luce non è proprio il massimo. Quindi se stiamo scattando al buio, abbiamo parlato prima di situazioni diurne, diciamo magari adesso che siamo in una situazione notturna o di crepuscolo o al chiuso e la luce è poca. E vi faccio un esempio. Festa di compleanno è il momento in cui si spengono le luci per avere le candeline. Quello chiaramente è un momento di illuminazione molto scarsa, siamo a lume di candela e quindi è assai probabile, soprattutto se lavoriamo in automatico, che le foto ci vengano mosse. Le foto vengono mosse perché la macchina rileva che c'è poca luce e quindi allunga i tempi di posa. E con un tempo di posa protratto, se il soggetto si muove, e il soggetto si muove di sicuro perché sta soffiando sulle candele o tagliando la torta, viene mosso. Ora, noi ovviamente possiamo lavorare con la nostra macchina per andare a mitigare questo fenomeno, però certe volte è molto più conveniente introdurre un lampo di flash, perché taglia la testa al toro e ci risolve il problema molto più facilmente e il risultato di solito è anche migliore. E questo proprio in virtù del fatto che in una situazione scarsamente illuminata, se io faccio partire il lampo del mio flash, il mio flash sarà l'unica fonte luminosa o quasi l'unica fonte luminosa che viene letta dal mio sensore e quindi cristallizzerà i movimenti delle persone regalandomi una fotografia che altrimenti non sarei riuscito a fare. L'ultima situazione di cui vi parlo è quella in cui il nostro flash sulla fotocamera non sia abbastanza potente. Ora, se noi già stiamo utilizzando in un contesto come quello appena citato, quindi magari festa di compleanno, stiamo utilizzando il nostro flash in camera e non è abbastanza potente, non arriva a illuminare la scena perché c'è troppa distanza o semplicemente perché gli altri parametri che abbiamo messo richiedono più luce, ecco che di nuovo utilizzare un flash a cobra può risolverci la situazione perché i flash a cobra sono molto più potenti di quelli installati sulla camera. Quindi con il lampo di un flash a cobra possiamo arrivare a coprire una distanza, se ricordo bene con i flash di una generazione fa arrivavamo a superare i 30 metri, con i flash della generazione di oggi probabilmente superiamo i 30 metri. Quindi sono flash potenti, abbastanza prestazionali, ovviamente spendendo delle belle cifre. Un flash da 100 euro, un flash da 80 euro non ci arriva. Un flash da 400 euro sicuramente ci arriva. Quindi sono strumenti interessanti perché ci permettono di coprire anche delle distanze notevoli e magari anche di rimbalzo, quindi riusciamo a ottenere una luce gradevole anche se siamo parecchio lontani. Bene amici, a questo punto io vi chiedo che cosa ne pensate dell'utilizzo del flash? Lo usavate già oppure siete i fanatici della luce naturale? E se siete fanatici della luce naturale dipende dal fatto che non vi piace il flash o semplicemente dal fatto che non riuscite a usarlo correttamente. Secondo me il 90% di chi non usa il flash rientra in questa seconda categoria, motivo per cui vi invito a recuperarvi la playlist dove ho già pubblicato tutti i video sulla gestione e sull'utilizzo delle luci flash. Se riuscite a padroneggiare questa tecnica non siete costretti poi a usarla ogni volta ma sicuramente avrete un'arma in più nel vostro arsenale. Io ricordo a tutti quanti di iscriversi perché l'algoritmo è feroce in questi giorni e lasciate anche un like a questo video perché mi date una grossa mano. Signori, io vi ringrazio come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.